Sorrini per Bellartinelli e Mantini al posto di Diarrà, le scelte del tecnico dell'Aquila Epifani per il match contro il Castelnuovo. Vincono i Rosso-Blu, ma che bella gara. 4-2-3-1 per la truppa del capoluogo, dietro Shiba, trio da fuochi d'artificio con Sarrizzo, Carbonelli e Massetti. Sul fronte nero-verde 4-3-3 per Delgrosso, Ancinelli e Sciarretta a dirigere in terza linea. In mediana il classe 2005 Daniani, chiamato a gestire i palloni caldi. Fischietto in bocca per Di Monti Odorizio di Vasto. Minuto 3, Boito porta voce del comitato d'accoglienza nero-verde. Palla al giro, brivido per Mascolo. 14esimo, bussa l'Aquila. Il piede è quello di Sarrizzo, Palermo c'è. Minuto 19, ancora Rosso-Blu, conduce Sorrini, Shiba di testa, ma l'estremo nero-verde salva tutto. 29esimo, Epifani ringa dalla panchina, l'Aquila lo asseconda. Licenza offensiva per Brunetti, offerta per Shiba, tuffo carpiato, rammendo Palermo. Minuto 37, si riaffaccia il Castelnuovo, punizione Boito, Mascolo sicuro. Nella ripresa è subito l'Aquila. Nono, Massetti rischia la multa per eccesso di velocità. Tappeto rosso per Shiba, piatto aperto ed è 1-0. Minuto 11, ride corticchia, fuori. Castelnuovo giù di morale, ma che? Trenta coste, prende l'autobus, arriva a capolinea, stoccata, fuori. Epifani getta nella mischia Marchionni, che si presenta così. Il numero 10 alza i giri del motore, saluta la compagnia e appoggia per Massetti. Sinistro velenoso, ma non va. Gli ospiti non ci stanno. Minuto 22, punizione Gagliardi, Mascolo non trattiene, Alcinelli, secondo estratto, ma all'estremo di casa rimedia. Minuto 27, ancora Castelnuovo, Dublino dalla banda pancina, conclusione a giro. Pedigree da portiera affidabile per Mascolo. Tra i rosso e blu, Alessandro rileva Shiba. Il numero 20 al minuto 38, se ne va. Sciarretta non lo tiene. Fallo dell'ultimo uomo e rosso diretto. Sulla seguente punizione va lo stesso Alessandro, destro di prepotenza, con pallone che fischia vicino al palo. Al gran sasso è show. Azione da videogioco sull'asse di Norcia Marchionni. Il primo disegna, il secondo raccoglie e manda sulla traversa. L'azione manda i titoli di coda del match. L'Aquila vince e raccoglie l'urlo della sua gente. Tra sette giorni, con un successo, sarà Serie D. Il Castelnuovo sono ragazzotti, ma stanno a giocare a calcio.